Benvenuti in questo nuovo video! Oggi vi parlerò del castello di Oramala. Il castello di Oramala è situato nel comune di Val di Nizza, in provincia di Pavia, e posto su uno sperone roccioso a 758 metri sul livello del mare. La struttura del castello è molto cambiata nel tempo. All'inizio era una piccola fortificazione. Nel 1474 ha preso l'aspetto attuale. Il torrione morì spessi 2,4 metri ed è stato fortificato per poter resistere ai colpi di artiglieria. Ai suoi piedi giace un piccolo borgo che ha fatto parte del circuito dei borghi più belli d'Italia. Verso la fine del XII secolo venne ereditato dalla famiglia Malaspina e vide il momento di suo maggior splendore, divenendo centro di diffusione culturale, ospitando trovatori provenzali. Nel 1474 la rocca venne fortificata da Manfredi Malaspina per adeguarla alle nuove esigenze difensive dovute all'entrata in uso dell'artiglieria. Alla fine del XVIII secolo i Marchesi di Oramala, trasferendosi a valle, ne decretarono il declino. Spero vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!